Queste sono le fragole, questo è l'alue, il fico, la menta, pomodoro, questo è un altro tipo di pomodoro, ecco qui, che si vede che stanno per crescere con i pomodori, questa è la menta, questa è Susy, è Susy, il mio amore che non ha più paura di niente adesso, ha superato i suoi traumi. Brava, stai qui. Questa è una bella pianta, grande, grande. Grazie.